In molti da queste parti hanno sognato il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, estratto il 6 gennaio. Il biglietto milionario è stato venduto a Bologna. A Palermo una vincita di seconda categoria, 50 mila euro. A Caltanissetta solo una terza categoria, 20 mila euro. Il biglietto venduto nel capoluogo nisseno riporta il numero di serie B21-23-27, il ventottesimo dei 192 biglietti estratti. 20 mila euro sono stati vinti anche a Milazzo, Palermo, Acicastello, Sciacca, Catania, Pedara, Belpasso e Barcellona Pozzo di Gotto. I premi di prima categoria sono stati comunicati durante la trasmissione Soliti ignoti, il ritorno, condotta da Amadeus su Rai 1. I possessori dei biglietti potranno procedere alla richiesta di riscossione del premio entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino dei premi finali, della Lotteria Italia, presentando o facendo pervenire il biglietto all'ufficio premi di lotterie nazionali di Roma. In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell'istituto di credito indicato nel regolamento. In questo caso, la banca ritira il tagliando e lo inoltre all'ufficio premi di lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Al giocatore, inoltre, saranno richieste le generalità, il suo indirizzo e la modalità di pagamento scelta, a segno circolare, a credito su conto corrente bancario o postale.